Anticipazioni, la promessa. Intrighi, rivelazioni e soprattutto un oscuro segreto svelato. La promessa. Teresa è arrivata alla promessa come fidanzata di Mauro, in un momento in cui è iniziata una relazione clandestina con Leonor, la figlia più giovane dei marchesi. Una relazione impossibile che ha portato alla rottura di Teresa con lui, ma un colpo di scena le ha portate a sposarsi. A quel punto Leonor ha deciso di abbandonare la promessa per recarsi e studiare a Parigi. Successivamente il barone Delinai, padre di Cruz, la marchesa, inizia a notare la fanciulla. Arrabbiata per il rifiuto di Mauro, non esita ad accettare il buon trattamento e i doni del barone, finché non scopre le sue vere intenzioni, ma ormai è troppo tardi. Pia e Mauro si uniscono per proteggere Teresa dal barone, poiché la fanciulla lo vede come un affascinante gentiluomo e non vuole vedere la vera natura. Il barone si avvicina a Teresa, intercedendo per curro davanti a Cruz e chiedendo che Teresa si occupi sempre della sua stanza, mentre Pia è testimone impotente di questo approccio. Il barone cerca di confortare Teresa, che è ancora addolorata per Mauro e Pia dubita delle intenzioni dell'uomo. Il barone è protagonista di un pericolosissimo riavvicinamento con Teresa. È tutto perché decide di regalarle un profumo che la giovane donna non esita ad accettare. Il barone ha in programma di salutare la promessa, ma prima avrà un addio speciale con Teresa, la cameriera. Poi capisce gli avvisi che gli fanno Mauro e Pia. Il barone, ignaro di ciò, continua ad essere determinato se è dura Teresa, anche se la fanciulla, consapevole delle sue vere intenzioni, ha già accettato l'aiuto offerto da Pia e Mauro. La governante fa tutto il possibile per evitare che Teresa subisca la sua stessa sorte. La Marchesa Cruz riceve due terribili notizie. Suo figlio Manuel ha avuto un incidente ed è disperso, mentre nella stessa notte alla promessa scompare anche suo padre. Tragedie che hanno scosso il palazzo dei Marchesi di Lugan. Il sergente Funes torna alla promessa e indagherà sulla scomparsa del barone Conrado. Effettuerà interrogatori a tutti i signori e membri del servizio. Teresa è molto nervosa. È l'ultima che ha visto il barone prima che se ne andasse e sa che sarà una delle prime ad essere interrogata. Pia, Iana e Maria la incoraggiano. Non succederà nulla se non cadono in contraddizione. Quale segreto stanno nascondendo? E dove è finito il barone? Da parte sua la giovane donna pensava che fosse tutta una ricompensa per il suo buon lavoro. Ma dopo aver guadagnato la sua fiducia l'uomo ha approfittato di un momento da solo prima del suo viaggio. È così che ha chiamato la giovane donna e voleva abusare di lei. Tuttavia al momento giusto sembra che siano intervenuti per evitare che si possa verificare una tragedia. Dopo questa scena non si è saputo nulla dell'uomo. La guardia civile lo ha cercato e ha trovato il suo corpo in fondo in un burrone all'interno della sua auto. L'uomo è caduto dall'alto morendo sul colpo. Ma le donne sospettate di aver aiutato questo pseudo incidente sono Pia, Teresa, Iana e Maria. Durante la sepoltura del barone dell'Inai, Maria, Iana, Teresa e Pia ricordano come uccisero il padre della Marchesa e organizzarono la sua scomparsa. Il barone prima di partire per un viaggio cerca di violentare Teresa ma Pia arriva per affrontare il padre della Marchesa. Il barone si avvicina alla governante con cattive intenzioni. Starò lontano da lei ma sarà solo per averti. Dice a via prima che la paura la colga. Lei ha preso la statua dalla biblioteca e l'ha colpito la testa in maniera molto forte e il padre della Marchesa cade a terra improvvisamente. In quel momento Maria ed Eliana arrivano in biblioteca dove trovano già morto il barone. La prima cosa che hanno fatto le domestiche della promessa è stata nascondere il cadavere, avvolgendolo nel tappeto. Una volta nascosto il corpo doveva essere rimosso dalla biblioteca e portato nell'area di servizio, il tutto senza che nessuno si svegliasse. E dobbiamo dire che è stato un miracolo visto il pianto di Teresa che era rimasta sconvolta da quanto era successo. Tutti hanno orchestrato il viaggio inaspettato del barone dell'INAI. Dovettero metterlo in macchina, preparare i suoi bagagli e simulare poi un incidente. Mentre Teresa preparava i bagagli, Yana e Maria portarono il cadavere alla periferia del palazzo, dove Pia aveva portato la macchina senza sapere guidare. Una volta il barone fu caricato sul retro dell'auto. E una volta raggiunto il burrone, Yana e Pia spostarono il barone al posto di guida. Il barone era già pronto a subire un terribile incidente e doveva solo rilasciare il freno a mano e spingere l'auto fino a farla cadere nel dirupo. Missione compiuta. Erano riusciti a nascondere quello che era successo in biblioteca senza essere visti. O almeno così pensavano loro due. Volete sapere come va avanti? E allora mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e aspettate il prossimo video per voi.